Sei amante del fai da te? Stai pensando di pitturare casa? Ciao, io sono Luigi Marangione, Antonietta e con questo video ti vogliamo presentare la nostra pagina dove metteremo a disposizione la nostra esperienza nel settore dell'edilizia, un'esperienza di 25 anni. Perché lo facciamo? Perché siamo stanchi di vedere i soliti errori purtroppo fatti per consigli dati da pseudoprofessionisti e anche perché siamo stanchi di vedere poi tanto spreco di soldi in modo inutile. Con questa pagina potrai avere l'opportunità di seguire appunto questi video tutorial che prima di tutto ti daranno la possibilità di crescere professionalmente. Evitando così tutti quegli errori che si possono venire ad incontrare, ottimizzare i costi e fare in modo di avere un risultato che ti merita per la tua casa. Bene, se sei un appassionato del fai da te e sei interessato a questo argomento ti invitiamo a cliccare mi piace così da seguire dei prossimi video. Il prossimo video sarà dedicato al fissativo, questo sconosciuto chiamato fissativo proprio perché serve per alcune fasi di lavorazione ma non tutto. Benissimo. Bene, allora clicca mi piace e seguici per i prossimi video. Ciao. Fino alla ristrutturazione. 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 Non mi piace dobbiamo cambiare. Togli tutto. È un errore brutto questo. Allora clicca mi piace e così sarai aggiornato per tutta la nostra pagina affinché che tu abbia... e io non lo so perché mi sto rimpattinando. Ma veramente è una cosa suicidiale. Vabbè, no, quando entra... fammi entrare in quella... no, questa almeno... è...